il momento di addobbare la casa è sempre il momento più atteso del periodo natalizio non solo l'albero di natale ma proprio ogni angolo per creare per rendere un po un'atmosfera più calda più e più intima e la tavola ovviamente nel periodo natalizio è quella su cui ci si fa più attenzione perché comunque si ricevono ospiti piace sempre creare un momento conviviale da ricordare in questo senso villeroy e boc e diciamo è il top perché comunque ti ti dà tanti prodotti e prima di tutto di qualità altissima perché le porcellane sono ottime e ma poi con dettagli fantastici per esempio guarda c'è la collezione di piatti la portata di piatti che ha dei dettagli particolarissimi in tutti i suoi angoli e i colori si possono mischiare colori quindi si può mettere un piatto fondo rosso insieme a un piatto piano bianco insomma è bello giocare con queste cose a tavola la tradizione vuole questi accostamenti rosso bianco e verde villeroy boc comunque unisce sempre un po diciamo una un'atmosfera nostalgica diciamo vintage però con un po un tocco di modernità perché ha fatto anche una collezione totalmente bianca con dettagli bellissimi e molto curati però è un total white insomma quindi un po più moderno questo minimalismo lo rende un po più elegante e comunque si può accostare benissimo anche con la collezione tradizionale ecco e pensiamo anche a come illuminare magari la nostra tavola esatto la luce è una cosa fondamentale quando si vuole creare un'atmosfera indimenticabile e noi per esempio giochiamo molto anche per creare un centro tavola particolare con le luci a batteria per esempio e quest'anno abbiamo una particolarità e abbiamo un prodotto nuovo sono queste queste lampade che funzionano praticamente si ricaricano come il cellulare sono a led e con un tocco si spengono e si accendono queste possono creare un angolo proprio veramente intimo vanno benissimo anche per l'esterno quindi comodissime e se non so mi viene mente in un giardino non ci arriva l'illuminazione giusta queste queste lampade riescono a illuminare comunque la tavola molto bene l'abbiamo in diversi colori diverse altezze quindi dipende insomma dal diametro del tavolo della lunghezza e sono veramente comode a proposito di illuminazione tra l'altro qui da panicali ambienti vi ricordo siamo a fano e in via inaudi nella zona industriale di bellocchi si possono trovare tutto tutti gli articoli che servono per creare veramente o l'albero o comunque angoli di casa e ben illuminati perché l'illuminazione importantissimo durante le feste abbiamo articoli per tutti i gusti quest'anno ci sono anche parecchie novità perché abbiamo luci anche colorate e potete vedere ci sono delle particolari luci che sembrano dei piccoli frutti tutti colorati e perché effettivamente abbiamo notato che quest'anno oltre alla l'illuminazione classica quella o bianco caldo bianco freddo a seconda dei gusti e è molto ricercata anche proprio il multicolore insomma tutti tutti i colori legati al natale e inoltre molto belli quest'anno sono gli alberi stilizzati tutti illuminati quindi sono alberi che si possono mettere anche all'esterno quindi mi viene in mente anche in un balcone per esempio creano una luce fortissima perché comunque il led man mano che andiamo avanti cresce sempre più di qualità infatti potete vedere delle luci veramente straordinarie veramente brillanti vi aspettiamo da panicali ambienti noi siamo aperti tutti i giorni mattina e pomeriggio e compresa la domenica